oggi si fanno gli innesti si danno tutti i suoi cucci così piccolo ma ne è finito ancora si toglie questo si taglia la corteccia e la buccia è strano questo innesto in questa gemma la gemma si stacca non cadi però non cadi però lascia perdere lascia perdere stacca ma qui stacca vicino è perciò è che sono le cose sono imprevedibili allora meglio non rischiare mette così vai mette così vai wow tipo un cappuccio sembra un innesto così vai ci metto pure la prima se faccia una cosa scorta e te vuoto turma è meglio quello se mi braccio da sola, questo taglia la plastica la plastica taglia qui dovrebbe fare il nuovo ramo poi la devi coprire con la roba come l'altra volta, con la colla, ma solo così questo non si copre con la colla devi coprire con la foglia ho un video il video è così mi ricordo come si fa si fa così la corteccia si deve staccare poi si fa questo si taglia il legno grazie fino a dove c'è sta uscendo il nuovo rame qua si e si mette questo come strano non lo so sembra strano perché stai levando quella parte lì il tronco la corteccia la tecnica sono un sacco di tecniche ma questa è la tecnica più usata per fare il figo i figi si perché è diverso dall'altra pianta l'altro tipo di innesto non fa ne quello con legno non fa ne una grande pressa siccome il legno di Vicky è diverso allora questa è che cos'è che cos'è se non lavare il tapire bianco Poi quanti anni ci vuole per vedere qualche sviluppo, crescita? 23 anni è qualcuno? hai il professore? hai disperso il professore? tu vuoi affaticare? fai pure fotografia? sto facendo un video? un video? un video? poi lo pubblichiamo su internet e ora fai i nesti amico? certo e ora è agosto? i nesti e gemma? a gemma ah questo è figo eh impara l'agricoltura e poi fai il tecnico perciò anche a te a me? eh non mi consiglio nessuno chi lo fa? ti imparate imparate se lo volete se no cantate se no cantate così 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 io ienio dove sta? ah forno ti hanno operato quando c'è uno? ah uno sei c'è uno qua, uno qua, uno sotto si e se la fai minicuccia posso fare pulita? eh certo ma io fanno solo persone intelligenti eh ma papà qua sopra non puoi fare però no? no perchè questo qua ha gemma vedi ok ma se potevi fare un nesto normale ma se potevi fare un nesto normale no è figo no? ah perché? anche perchè questo è un periodo brutto per fare i nesti quelle fanno in primavera altri tipi a legno ah ok se vedi li ripuliamo via gli marroni gli marroni? eh no quella non entra nella mia giusta basta quando ce ne avrà? ah ah ok poi e chi ha? la devo tenere? allora ce la fai così e il sole dovrebbe avvenire una piazza c'è la piazza e la piazza e e la piazza e ma e la piazza e piazza e la piazza Chi la fa? Noi avevamo fatto il buon repitalino. Quando avevamo fatto le nere. L'avevano pigliato tutti quanta. Poi avevamo freddo e sono seccato tutti quanta. Nooo, veramente. Ma capita. Quelli neri sono i migliori pure. Ah. Fatto? Questa è quasi un'altra. Un'altra parte. Questa è un'altra parte. Dove? Tengo pure parecchi da fare. Un'altra parte. Ma tanto c'è tempo sempre. Non è che... Capaccio. Eh, pure il mio canale qualcosa. Dico c'è tempo, non è che sono andato per forza oggi. C'è tempo. Mmh. Eh. Lo dicono. Gli 40 anni. Che quando li fai, ci hanno pigliato. Mmh. Metti qua per la misura. 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 Ehm. Questo periodo qua perché la buccia si stacca, no? Grazie a tutti